Però poiché per 31 puntate abbiamo avuto i dolci, i pasticci, i regali, la macron, di tutti e di più, il barbier, godiamoci questo servizio di un viaggio che c'è stato ogni settimana, con un tour con i nostri amici, benefattori, sponsor, velocemente, prego vediamo questo servizio. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.